È un momento della tua carriera quando hai cantato, cioè hai scritto la canzone, si cantavano in coppia con gli stranieri per Ray Charles, sarà stato un incontro esaltante? Siamo stati una settimana insieme, una persona di una sensibilità incredibile e posso dire che è stata l'emozione più grande della mia carriera professionale. Perché quando hai sentito la canzone cantata da lui insomma... Però devo dirti una cosa che mi fa molto ridere, non ce l'ho con i giornalisti, assolutamente, ma noi quando ho mandato il provino a Ray Charles, gli ho mandato il provino con un inciso diverso e quindi quando siamo andati a Sanremo lui ha fatto questo inciso, io poi durante una settimana avevo bisogno di cambiare l'inciso, l'ho cambiato. L'ho cambiato e a Sanremo ho fatto quanti amori, no? E lui invece è arrivato e ha fatto il primo inciso, i giornalisti hanno detto, e beh si vede che c'è la mano di Ray Charles.